Io credo di essere poco attore e credo di essere anche poco cantante, nel senso che mi interessano queste forme espressive dello spettacolo nel momento in cui ho delle cose che mi sembra valga la pena dire al pubblico. Quindi non è che vado a recitare in quanto ho voglia di recitare ed esibirmi, vado perché mi sembra di avere qualche cosa da suggerire, che possa essere minimamente utile, quindi il teatro che interviene nell'oggi e che lo testimonia, lo commenta o comunque se ne fa interprete mi sembra che sia un teatro che mi appassiona di più. Poi via via è stato l'arrivo della canzone a teatro, ci sono due tipi di canzoni, una canzone che è tipicamente discografica e quindi ha una specie di particolare predisposizione al pluriascolto, uno l'ascolta molte volte, poi la impara, la ricanta e poi c'è una canzone che è viceversa quella che si offre nel teatro, che è più legata forse ultimamente alla canzone francese e forse a un'antica canzone napoletana, che è la canzone del primo ascolto, cioè che uno ascolta come se ascoltasse un racconto e che se lo ha già ascoltato tante volte forse ne perde l'efficacia o se ne deve ritrovare il gusto nelle pieghe. Quindi una canzone più teatrale è stata quella che mi ha portato poi ad affrontare l'esperienza teatrale che via via si è modificata e è diventata poi scrittura, è diventata anche prosa e quindi anche recitazione. Il teatro purtroppo in questo strano sistema assistito va il più delle volte verso una noia notevole quindi anche l'esaltazione del teatro come momento di grande divertimento puro è abbastanza fasulla. Gli spettacoli sono quasi tutti noiosi, la gente ci va per una specie di obbligo culturale ma non è vero che poi si divertono moltissimo. Io credo che ogni anno spettacoli divertenti ce ne siano 3 o 4 su 450, che è poco. Per carità, il teatro spero io che vada verso una testimoniante dell'oggi che quindi in qualche modo non rappresenti solo una specie di pedaggio culturale che uno deve pagare ma che in realtà rappresenti un fatto più vivo, cosa che secondo me oggi non è e che quindi ritorni ad essere un mezzo espressivo che coinvolge la gente nel senso reale del termine. Grazie. Grazie.